Buonasera di nuovo e benvenuti a Primo Cittadino. Prima di dare il benvenuto all'ospite protagonista di questa puntata vi do un'ultima ora perché poco fa nel corso del nostro telegiornale Occhio alla Notizia vi abbiamo raccontato dell'atto vandalico ai danni del presepe installato al Pincio di Fano. Ebbene un nostro reporter di strada ci ha scritto che intorno alle 19.45 appena uscito dal lavoro, sempre nella zona del Pincio, l'altezza dell'arco d'Augusto dei ragazzini stavano distruggendo tutte le palline di Natale degli alberi. Erano 4-5 ragazzini, ci scrive nel locale dei distributori automatici che urlavano e distruggevano di tutto. Il Pincio ha commentato è così ben allestito che non merita l'inciviltà di queste persone. Ovviamente ha avvisato subito la polizia. E ora cominciamo questa puntata, do il benvenuto al sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. Benvenuto nei nostri studi sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Vorrei farle vedere dei video che ci stanno arrivando dall'entroterra, da Urbino, dove sta nevicando. Invece da voi qual è la situazione? Io sono partito un quarto, mezz'ora fa da Fossombrone, non stava nevicando né piovendo, quindi speriamo bene. Tutto tranquillo, strade pulite. Tutto tranquillo. Ricordo subito i numeri di telefono ai nostri telespettatori. Sono sempre gli stessi per intervenire in diretta. 0721 86 14 33. Potete anche inviarci dei messaggi pure con WhatsApp al 338 49 68 250. Intanto le chiedo come stanno andando questi primi mesi di governo. Anche vista l'alleanza allargata con il PD, sta procedendo bene? Sì, sta procedendo bene. Facciamo una squadra, cerchiamo di essere sempre più coesi, cerchiamo di capirci. Capiamo anche, per me in modo particolare, che sono nuovo, di capire cosa abbiamo intorno, di capire come muoversi con la migliore efficienza. Certo, e lei ha deciso anche di rinunciare alla sua indennità. Cioè, vabbè, questo qui non vorrei parlarne troppo, perché non vorrei che sia uno scoop. Diciamo che ho messo a disposizione la mia indennità a servizio di chi in realtà potrebbe aiutarci nella macchina organizzativa, quindi tutto lì. E comunque ricade sempre sul territorio, quindi non è una cosa da nascondere, anzi ben venga. Ci sono tanti lavori pubblici, state programmando importanti opere pubbliche. Qual è la vostra visione della città? Beh, la nostra visione ce n'è una che fa parte del contingente, nell'immediato, che sono le esigenze prossime, le esigenze anche, fra virgolette, le più scontate, quelle che sono in evidenza a tutti i nostri cittadini. E c'è invece un progetto, sicuramente, che deve in qualche maniera proiettarci su quello che è una visione del futuro, come interpreteremo noi il futuro, come vediamo noi il futuro nei prossimi dieci anni. A partire anche dalla sanità? Rientra tra le vostre priorità? La società è un tema della quale sicuramente ne hanno parlato tanti, forse anche fin troppo, senza mai avere un focus preciso, secondo me, su quello che realmente oggi è possibile avere a Fossombrone, cercare di avere il meglio che si può avere a Fossombrone. Sicuramente è un tema che non diamo assolutamente per scontato, però vorrei prima mettere insieme le cose realisticamente possibili, ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando, affinché prima le facciamo, poi diciamo quello che in realtà siamo riusciti a fare. Quindi è concreto, insomma, valut dei fatti? Non si tratta di concreto, mi sembra più che sia un escamotage per parlare di un servizio che in qualche maniera io come cittadino ci tengo per primo, però non serve parlare, serve di coordinarsi, capire e mettere insieme un qualcosa che serve veramente alla nostra comunità. Andiamo a leggere qualche messaggio che ci arriva per lei. Una domanda per il sindaco. Sono di Pesaro, il capito spesso a Fossombrone. Mi piace come cittadina e visitando il centro ho notato troppi palazzi di interesse storico, chiese incluse in stato di semiabbandono, che andrebbero valorizzati. Tutto il centro avrebbe bisogno di più cura, è d'accordo? Sono perfettamente d'accordo, anche se il fatto di avere queste bellissime chiese, questi bellissimi palazzi di interesse storico è un po' al degrado, non credo che sia un problema soltanto di Fossombrone, ma Fossombrone, grazie a Dio, avendene tante è molto più evidente. Però sono perfettamente d'accordo che dobbiamo rivalorizzare quello che abbiamo, che sicuramente è un valore del quale dobbiamo essere fieri e non essere in discussione nel grado in cui li teniamo, nel grado in cui obiettivamente sono un po' all'abbandono. Ci scrivono, bisogna scongiurare il crollo del complesso quattrocentesco della Santissima Annunziata, che se avvenisse sarebbe la seconda scandalosa vergogna per Fossombrone, la prima fu, ricordano, l'ottocentesco teatro Petrucci. Sì, a quello che si sta riferendo il nostro ascoltatore è veramente una struttura di pregio che però in me non è del comune di Fossombrone, ma è di proprietà del FEC, che è praticamente il fondo di edifici del culto, col quale c'è stata anche una controversia in passato, ma che è già in via di definizione. Purtroppo sono d'accordo col telespettatore che sarebbe veramente, come dire, uno scempio, non intervenire, ma ripeto, non è di nostra competenza. Buonasera, voglio complimentarmi per il buon inizio, quantomeno apparente circa la dimostrazione di contatto in ogni circostanza che riguarda il cittadino e la splendida cittadina. La stessa va riqualificata, non cambiata, la sanità, ci dicono, è un problema prioritario, a volte spunta per diattriba politica. Il coordinamento è giusto, bisogna attivare la polizia municipale, narcoserale e notturni, in stretta collaborazione con l'arma dei carabinieri, creare comitati di collaborazione per meglio rappresentare le varie problematiche in ogni frazione. Una sorta di vigile per quartiere, no? Anche da noi a Fanocera, non so come è organizzato da voi. Senza arrivare sicuramente al vigile di quartiere che magari lo prenderemo in considerazione, ma sicuramente oggi avere un coordinamento tra quelli che sono i quartieri, quali sono l'ordine di priorità che ogni quartiere, vivendo sul posto e capendo sul posto esattamente le esigenze, è importante averle in modo tale da dare anche una risposta, sapere come intervenire su tutti i temi ovviamente che ognuno vorrebbe, non è possibile, mentre creare una sorta di vigilanza in sé per sé, per quel che riguarda, per ordine di priorità, le cose che in ogni quartiere è più urgente, questo è di buon auspicio per un coordinamento sui lavori da fare. Ci hanno inviato una foto delle mura di via Verziere e dicono che serve un intervento urgente, purtroppo non riesco in diretta a farvi vedere la foto, però ecco se lo può puntare, se ci sono dei progetti. Assolutamente, me lo appunto, perché magari questo mi è sfuggito, guardiamo il particolare, ma magari l'ascoltatore che ha inviato questo messaggio sa benissimo dove trovarci per capire in maniera più puntuale e intervenire appena possibile. Il 27 ottobre c'è stata una conferenza di sindaci al Teatro della Fortuna a Fano e ci dicono che c'era sia l'assessore Saltamartini ma anche lei, come mai non ha chiesto nulla in questa occasione proprio sull'ospedale di Fossombrone? Voleva un attimo capire un po' come stanno le cose? Ma credo che sia necessario prima capire e quando si chiede ascoltare, avere un po' di umiltà per capire in contesti in cui uno è e soprattutto chiedere le cose in maniera puntuale, in maniera precisa, chiedere solo per far vedere che uno interviene lascia il tempo che trova, bisogna capire le cose fattibili, quelle ripeto anche per noi più urgenti, quelle che ci danno il miglior beneficio sulle cose che sono realmente realizzabili e sulle quali dobbiamo chiedere e puntare di avere. Ci stanno arrivando diversi messaggi... Però ho ascoltato, chiedo scusa, ho ascoltato con molta attenzione tutto quanto in quell'occasione. Ci chiedono se sistemerete il campetto di Portafano, è un argomento comunque abbastanza sentito dai forsembronesi. Sì perché è strano ma questo è un punto dove non c'è niente, c'è un campetto oggi che è anche usato come parcheggio, però è il life motive degli ultimi 30 anni, cosa farci, è stato espresso qualsiasi... Tante idee su questo. Sì tantissime idee, però nulla di fatto. È un punto strategico, è un punto che rievoca anche la nostra giovinezza ai momenti dei giochi che si facevano, quindi tutti si avvicinano, però tutti hanno paura di dare in questo preciso luogo un segno importante. Sicuramente tra tante cose da fare questo non è al primo posto, ma sicuramente sarà un qualcosa che in futuro vedremo, ma con molta calma e con molta obiettività. Lo prenderete comunque in considerazione. Assolutamente sì. Ci chiedono di asfaltare via della conserva. Ecco, leggevo in questi giorni anche sui quotidiani che ci saranno degli asfalti per oltre 500 mila euro, quindi degli interventi importanti che andrete a fare nelle vie della città. Sì, diciamo che ci sono una serie di strade da asfaltare che obiettivamente non è più una situazione decente, quindi è improrogabile, quindi bisogna per forza metterci mano. Già nei prossimi mesi, Sindaco? Ma se riusciamo, nei prossimi mesi vuol dire proprio anche nei prossimi 60 giorni iniziamo già i primi interventi, ovviamente appena avremo i capitoli di spesa adeguati. E anche condizioni meteo permettendo. Sì, assolutamente. Si parla sia delle vie limitrofe al centro storico che al di fuori? Ma si tratta semplicemente, ripeto, che adesso è l'assessore all'opera pubblica con il quale abbiamo un contatto giornaliero che in qualche maniera stilerà quello che è l'ordine di priorità, quelli che sono i punti più importanti da intervenire nel prossimo immediato futuro. Cominciamo a vedere qualche fotografia. Intanto pensate anche alla sistemazione dei giardini di Viale Cairoli. Sì, qui sono stati appaltati, io sono in corso d'appalto. Ah, ecco. Per far capire anche a tutti coloro che non sono di Fossombrone, eccoli, questi qua sono i giardini. Andrete ad intervenire sia sul verde che sulle panchine, ad esempio, cessini. Ma diciamo che prevede proprio un restyling completo dei giardini, valorizzando ovviamente tutti i segni storici, compreso la fontana, rispettando e ristrutturando anche quelle. Invece in Viale Martiri della Resistenza? Ma si tratta del controviale, quello che è la sistemazione di questo viale lato, diciamo così, lato sud, a destra per chi corre Fossombrone verso Fano, che ovviamente è in uno stato totalmente degradato proprio per le radici, per che hanno sollevato l'asfalto, cioè veramente è anche pericoloso camminarci e passeggiarsi sopra. Sarebbe necessario regolamentare il traffico di accesso alla Nazionale dal quartiere Querciabella, davanti alla piscina comunale, perché soprattutto negli orari di punta le emissioni con automobili, motocicli e biciclette, è difficile e pericolosa. E ancora dicono, dalla zona Ghilardino, una delle zone industriali di Fossombrone ancora non è coperta dalla rete internet con fibra, quindi richiedono quando arriverà, se ci sono, perché poi oggi siamo sempre più connessi, e quindi è importante anche in questo caso la fibra. Guardi, per quanto riguarda il primo, la prima domanda... Sulla regolamentazione del traffico di accesso alla Nazionale dal quartiere Querciabella. Sì esatto, è già previsto una ristrutturazione addirittura della strada, nella quale in questa ristrutturazione ci sono già due rotonde, una sulla Flaminia e una nel lato nord salendo verso la collina e quindi con tutto il manto e con tutto l'allargamento della sede che ovviamente non può essere più in quelle condizioni, altrimenti è veramente estremamente pericolosa che non garantisce nemmeno il passaggio in tutte e due le direzioni, o con estrema difficoltà, tant'è che se c'è un pedone a bordo, a fianco della strada, ovviamente è molto pericolosa. Ok, le chiedono invece anche sulle Cesane, abbiamo, dico abbiamo perché sono di Fossombrone, le Cesane che hanno un grande potenziale a livello turistico, ci sono dei progetti a riguardo, visto che le Cesane sono conosciute a livello nazionale per la disciplina mountain bike, ci saranno dei progetti specifici per questa disciplina, visto appunto che la mountain bike viene praticata tutto l'anno e può essere anche un'attrazione turistica, puntate sul turismo. Non c'è alcun dubbio che le Cesane siano un valore, un patrimonio importante per Fossombrone, quindi assolutamente abbiamo l'obbligo di valorizzarlo, non soltanto con la mountain bike anche, ma anche con tutti i sentieri che ci sono per le sane camminate, per le sane escursioni. Ci sono state anche gare pudistiche che hanno coinvolto le Cesane, ma è un patrimonio del quale Fossombrone deve soltanto valorizzarlo e cercare di in qualche maniera metterlo a disposizione e farlo anche conoscere. Arrivano tanti messaggi per lei questa sera, vorrei chiedere al sindaco che ne pensa della strada che da Calmazzo porta a San Lazzaro direzione mare, non so se in questo caso chiedete un lavoro di asfaltatura o insomma ci sono altri problemi, fatecelo sapere. Avete in mente di sistemare il campetto, questo ce l'abbiamo, se farete qualcosa per il calcio a 5, tipo un impianto, anche per gli sportivi, visto che parlavamo adesso... Diciamo tra le nostre priorità c'è fare e valorizzare tutti quelli che sono e credo che sia estremamente importante questo, valorizzare tutte le varie possibilità per dare ai giovani e anche ai meno giovani di fare attività fisica. Questo ovviamente è tra le cose di primaria importanza, cercare di rendere attivo, cercare di impegnare, di dare un'alternativa a tutti i giovani, ripeto, non solo a loro. Certo, ci dicono una risposta sulla fibra, ma non so se ha già una risposta... No, è vero, ha ragione, ne sono dimenticato. No, ma ovviamente non nascondo che è un problema che non riguarda soltanto Ghilardino, parlava di Ghilardino, è un problema un po' più allargato su tutto il nostro territorio. Diciamo che, francamente, le nuove direttive che ci portano verso quelli che sono tutti i recovery o il PNRR che dobbiamo affrontare in prossimi mesi, c'è sicuramente anche questo tipo di tematica. Dobbiamo e vogliamo avere una copertura che è basilare e quindi sicuramente sarà anche Ghilardino, che peraltro è anche una zona industriale e quindi necessita in assoluto di questo tipo di servizio. Sicuramente è uno dei temi sui quali ci battiamo, ripeto, onestamente non solo per Ghilardino, ma per tutto il nostro territorio. Perché prima di procedere alla risistemazione per un miglioramento atti sismico della scuola primaria e del capoluogo non pensate di far fare una seria valutazione delle condizioni del tetto? È molto vecchio, travi di legno comprese, nel tempo ha avuto parecchie infiltrazioni d'acqua. Per le scuole ci sono degli interventi in programma o anche dei sopralluoghi? Per le scuole il sopralluogo c'è già stato. Abbiamo le idee molto chiare, stiamo spoltando soltanto dei finanziamenti che nel giro di qualche mese, ma addirittura qualche settimana avremo delle idee più chiare, ma comunque sia, finanziamenti o non finanziamenti, i nostri figli devono stare dentro strutture sicure. E quindi la priorità è al primo posto, non mi darei mai pace se ci fosse un incidente del quale mi vede inerte di fronte a questa problematica. Diciamo che stiamo soltanto a aspettare per capire se ci sono opportunità diverse da quelle che saremo costretti a fare comunque a brevissimo. A brevissimo intendo, entro il prossimo anno, iniziare e dare con continuità, mettere in sicurezza e dare una risposta chiara a quello che è questo tipo di problematica. Presindaco, da un cittadino di San Lazzaro, maggiori controlli chiedono per la velocità nel rettilineo che attraversa il centro abitato della frazione San Lazzaro, strada molto spesso percorsa da auto e moto a forte velocità. Sarebbe auspicabile una maggiore presenza della polizia. Poi, per quanto riguarda la strada che da Calmazzo portasse a San Lazzaro, intendevano l'asfaltatura e ancora le chiedono come mai nelle campagne i rifiuti che andiamo a buttare 700-800 metri da casa, da casa si paga una cifra stratosferica. Ci sono delle tariffe diverse in base ai vari quartieri oppure no? Bene, vorrei dare una risposta a tutti in maniera molto soddisfacente, molto... Purtroppo sono tanti i messaggi, quindi l'importante è che vi mandiamo la segnalazione, poi sicuramente... Sì, però la prima domanda era relativa alla velocità, io credo che in quel punto lì ha perfettamente ragione, c'è una frequenza di autovetture che comunque diciamo che è un posto dove in qualche maniera si presta ad andare un po' più forte del consentito, come d'altra parte in tanti altri posti. Credo che ovviamente mettere degli apparecchi può servire, ma serve soprattutto anche un buon senso e cercare dei cittadini. Poi me ne hanno fatte altre domande che... Sì, sui rifiuti, dicono come mai... I rifiuti è un problema francamente pesante, ma non lo è per l'amministrazione di Fossombrone, ma lo è un po' per tutti. Sicuramente credo che siamo obbligati a prendercene carico, non soltanto per i 700-800 metri di distanza, che anche questo è un motivo di riflessione, ma soprattutto per gestire un po' meglio tutto quello che è anche il decoro dei rifiuti, i cassonetti, l'utilizzo che se ne fa. Su questo argomento vedremo con l'ASET di capire come fare a migliorare sensibilmente questo tipo di situazione. Ok, andiamo a vedere un'altra fotografia, così la commentiamo insieme e vediamo che cosa ci propone la regia, eccola qua, la Rocca. Qui vanno avanti i progetti, Sindaco? Beh, questo qui è il maschio caranato, di cui ovviamente Fossombrone deve soltanto essere orgogliosa. Una parte è stata ristrutturata, quella parte forse che si vede da metà mura in su, è stato un primo intervento dentro questa struttura, che sono rimasto stupito anche io la prima volta che sono entrato, da quanto grande sia, in realtà prevede, se riusciamo a trovare i fondi adeguati, speriamo di trovarli, anche il completamento di una struttura che in qualche maniera oggi è a metà dell'opera. Abbiamo un appuntamento in regione a breve con gli architetti e chi si è occupato del primo astralcio per capire se c'è la possibilità di completare questa opera nella quale già sono stati investiti centinaia di migliaia di euro. Torno a dire però l'ordine di priorità oggi sono scuole. Abbiamo un cittadino che vuole parlare con lei, sentiamo che c'è il telefono, buonasera. Buonasera. Il sindaco è qua che l'ascolta. Buonasera, mi ascoltate? Buonasera, buonasera a lei. Buonasera, io chiamo la salone in campo, quindi innanzitutto auguri per il procedimento della sua attività che ha iniziato da poco come sindaco di Fossombrone, innanzitutto questi i miei auguri. Grazie. Allora, le chiedo se nell'esercizio dei prossimi anni potesse essere fatto almeno uno studio di infattibilità per la riapertura della ferrovia Pergola-Fossombrone. Questo è un momento, penso, propizio per fare questo tipo di attività, visto che anche come assessore regionale alle infrastrutture abbiamo il pergolese Baldelli, Francesco Baldelli, ex simer di Pergola. Quindi sarebbe anche un momento, questo è veramente importante per fare questo tipo di attività che se non è facile fare la costruzione del tratto dei 14 chilometri, Pergola-Fossombrone. Però lo studio di attività che porti, posso pensare, nei prossimi 20 anni alla riapertura di questa ferrovia non sarebbe niente male, perché un collegamento veloce, Fano-Fossombrone, Pergola-Fabbriano-Roma sarebbe veramente un servizio che noi faremo non a queste marche interne, penso proprio all'Italia nel suo complesso. Quindi lo ritiene utile, insomma. È un accorciamento del collegamento tra Pesaro-Fano-Fossombrone e Roma rispetto al passaggio su Falconara. Quindi il mio quasi è un invito, nei prossimi 5 anni della sua attività, a battere questo chiodo, diciamo. La ringrazio e buona serata. Grazie a lei per la sua chiamata, Sindaco. Grazie a lei. Beh, innanzitutto io ne sono perfettamente consapevole del disagio che stiamo vivendo. Basti dire che se un cittadino, come diceva giustamente l'ascoltatore, da Fossombrone deve andare verso Roma, è un viaggio della speranza, perché l'alternativa è ovviamente andare a Falconara, poi da Falconara risalire la nostra Italia verso Ovest. È ovvio che questi progetti in qualche maniera dobbiamo confrontarsi, dobbiamo confrontarsi su tutto quello che è il tema viabilità. Non è possibile ovviamente essere a 10 chilometri di distanza e impiegare tre quarti d'ora, adesso esagero, ma comunque tanto tempo per raggiungere la vallata con noi adiacente. È ovvio che questo va fatto in un contesto strutturato, ma è un tema che ferrovia o magari la ferrovia o qualcos'altro dobbiamo porcelo per riuscire a essere più collegati. Ma anche questo credo che ci sia in qualche maniera, non dico imposto, ma suggerito da tutti quelli che sono ovviamente i traguardi che ci sono stati imposti come amministratori nel cercare di rendere più vicino e più in rete i nostri paesi. Non c'è alcun dubbio. Sindaco ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità e poi torneremo a leggere anche i vostri messaggi perché sono davvero tanti a tra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fossombrone e cominciamo con il primo messaggio. Le chiedono se è stato modificato il piano del commercio ambulante, quindi il mercato settimanale. Ci sono dei controlli? No, non è stato modificato. Ci siamo ripromessi di vederlo, ma ripeto, questo è una cosa importante, ma non di primaria importanza. Oggi dobbiamo confrontarci con cose sicuramente molto più urgenti, ma sicuramente promettiamo che nel prossimo futuro vedremo anche di riorganizzarci su questo tema. Le ricordano l'illuminazione di Viale Cesare Battisti e poi per la scuola primaria Occhialini se è possibile una struttura per la pioggia. Per quanto riguarda le illuminazioni, ahimè non è un problema solo di via Cesare Battisti, ma è un problema che in qualche maniera, e questa è una promessa che abbiamo fatto ai nostri concittadini, ma è un piano che dobbiamo affrontarlo in maniera sistematica e riorganizzarla in una maniera tale per cui ci sia più omogenità, più copertura e anche risparmi energetici più importanti. Forza Sindaco, le scrivono continuo sulla strada intrapresa. Piancerreto, è con te non deluderci. C'era la grazia di questo, speriamo di non deludere nessuno. Grazie del sostegno, ma lei mi ha fatto un'altra domanda che non ho risposto, che è la pensilina di fronte alla scuola, dinanzi alla scuola, ha perfettamente ragione. In questo momento, dovuto anche all'epidemia dove ovviamente non possiamo ammassare tutti i ragazzi all'interno prima che ancora iniziano le lezioni. Vedere tanti ragazzi con i loro genitori che sono all'aperto, al di fuori di una struttura, sicuramente è una cosa che già abbiamo preso in considerazione. Quindi è un'osservazione giusta che prendiamo e ci stiamo lavorando sopra. Cosa ha previsto la città di Fossombrone per il periodo natalizio? Bene, giusto oggi alle 18 c'è stata una conferenza stampa e chiuderemo questa puntata proprio con gli eventi natalizi. Quindi rimanete sintonizzati. Dunque, andiamo avanti. Le chiedono se ci sarà la possibilità di riaprire un cinema a Fossombrone, quindi anche qualche luogo di aggregazione. È obbligatorio che ci sia. Non so come, ancora non posso dare dei tempi, ma sicuramente io e tutta l'amministrazione metteremo in campo tutto quello che c'è possibile perché il cinema come luogo di aggregazione è una cosa che Fossombrone non può prescindere e deve averlo anche come segno di aggregazione, come segno di stare insieme. Non può non averlo. Quindi sicuramente sì. Non sono cittadina di Fossombrone, ma molto spesso mi reco per raggiungere qualche negozio di prestigio, ottime gastronomie, anche negozi di nicchia. Soprattutto per la sua bellezza purtroppo violentata, scrivono per non dire squalida. Mi riferisco ai negozi chiusi, all'inflazione di bar significativi come alternative ad altre attrazioni. Non ultima l'angoscia delle lanterne infiocchettate con relativi addobbi ai portici, talmente belli che una semplice illuminazione sarebbe stata sufficiente. Grazie per un'eventuale attenzione e suggerimenti per Fossombrone Romana, patrimonio anche di noi marchigiani, grazie ancora. Per il centro storico, ad esempio, visto che ci sono anche tanti negozi chiusi, il commercio, punterete anche su questo? Questo fa parte delle priorità? Assolutamente sì. Un centro storico ovviamente non può convivere con una quantità di negozi, circa 30, che hanno chiuso, quindi vedere vetrine chiuse è un segno anche, come dire, economico, ma anche un segno di degrado commerciale, che non possiamo essere indifferenti di fronte a questo. Cosa fare? Abbiamo l'idea di promuovere delle azioni nel sostegno, soprattutto con un'idea che in qualche maniera deve riaprire questi negozi, mettendo anche in campo non soltanto quello che è un puro commercio, ma può essere anche degli artigiani o delle piccole attività che in qualche maniera possono soltanto portare il loro porto in un centro storico, ma possono anche sicuramente mettere in risalto il suo lavoro. Abbiamo anche altre foto che la regia adesso ci propone, ecco quelle del ponte San Martino, qui ci sono previste delle riqualificazioni, comunque è il simbolo, uno dei simboli di Fossombrone, anche questo ponte, molto amato. Bellissimo, molto amato, è bello. Riqualificazione sul ponte no, perché sembra che stia in ottima salute, perlomeno da quello che io so. Io non sappia che ci siano particolari esigenze sulla struttura, sicuramente la riqualificazione è vicino al ponte, per renderlo molto più visibile, più fruibile anche dalle persone che vogliono ammirare questa splendida opera. Sindaco, se non diamo una risposta non sono contenti. Sulla sfaltatura della strada San Lazzaro, se rientra nei prossimi interventi, quelli annunciati da 500 mila euro oppure no? Guardi, io adesso onestamente non so l'ascoltatore a cosa si riferisce sulla strada, ma se la strada provinciale, ovviamente questa non credo che sia più un intervento che in qualche maniera non dipende dal comune. Adesso non voglio essere e cadere in false interpretazioni, però se quella non credo che... Posso prendere anche una gaffa, ma magari se l'ascoltatore mi chiama, piuttosto che in sinistra magari ne parliamo un attimizzino. Per la biblioteca invece che cosa possiamo aspettarci, le chiedono? Ma quello è un altro tema assolutamente, che va assolutamente ripristinata alla biblioteca, quindi va sanato l'edificio, va fatto un progetto. Se pensiamo a quanto, a che patrimonio ci sia di libri che oggi l'accideranza non può usufruire, perché sono riposti in un magazzino, peraltro nemmeno a Fossombrone, dove paghiamo l'affitto, credo che sicuramente è una di quelle cose che fanno parte delle, non dico delle priorità, ma sicuramente delle cose che a breve termine dovremmo affrontare e risolvere, vale a dire la ristrutturazione e la riprogettazione della biblioteca, che non deve essere soltanto una biblioteca, ma anche questo deve essere un luogo che oltre a essere biblioteca, deve essere un centro di aggregazione, come un centro che in qualche maniera dia la possibilità a tutti i cittadini di recarsi in un posto e aggregarsi. Abbiamo altre foto che si riferiscono invece al cimitero, eccole qua. Qua state pensando di intervenire? All'Oculi piuttosto che... Innanzitutto i cimiteri Fossombrone ne ha una quantità importante, onestamente sui cimiteri non abbiamo o non so in qualche maniera le esigenze, sono 40 giorni e tra tante cose non ho dedicato magari il giusto tempo a questo tipo di problema, cosa che magari da domani prenderò in considerazione dietro il suggerimento. Allora, le chiedono intanto se si potrebbe mettere un raccoglitore per l'olio esausto nella zona del bocciodromo, quindi questa segnalazione che ci arriva da là. E poi le chiedono se sono vere le voci secondo le quali Fossombrone perderà il monte dei peni, istituito nel 1500. Sì. Beh, c'è stata sicuramente anche un'azione che ho promosso io in prima persona, c'è rischio di perderlo, però comunque cerchiamo, abbiamo messo in campo tutto quello che c'è possibile perché questa, diciamo ormai, questa importante storia che ha il monte dei peni, che lei pensi che ha la stessa età della scoperta, nello stesso anno è stato istituito lo stesso anno della scoperta dell'America, quindi sono dal 1400 antecedente, al primo del, credo che sia il 1400, adesso magari mi avventuro su una data che non ricordo bene, ma... Comunque dopo 500 anni in più si potrebbe trasferire. Dopo 500 anni non è giusto che venga trasferito, non è giusto che venga in qualche maniera, da qualche illuminato, rinnega 500 anni di storia sicuramente. Quindi cercherete di battervi anche se logicamente non è una decisione... Certo, ma soprattutto anche perché credo che un cittadino, ahimè, che ha la necessità di impegnare anche magari un suo oro... Certo. Non è giusto che in qualche maniera, non avendo più possibilità di credito presso gli istituti, debba per forza rivolgersi a un mercato, sappiamo che è quello dell'usura, no? Quindi credo che non abbia nessun senso chiuderlo. Sono fortemente convinto che ci batteremo perché resti aperto. Un'altra foto per lei e poi passiamo alle iniziative di Natale. L'orologio, l'orologio, la torre dell'orologio della cittadella che è stato sistemato dopo tanto tempo, anche questo insomma era richiesto. Era richiesto? Non venivano più evidenziati i quarti, le mezz'ora, insomma un piccolo segnale che però fa piacere a tanti suoi concittadini. Ma vede, spesse volte questi segnali servono anche per... Il bello di questi segnali è perché stiamo ascoltando le persone, stiamo ascoltando la gente che ci chiedono delle piccole cose e in qualche maniera interveniamo perché è giusto che sia così. E' un piccolo segnale, ma un piccolo segnale che in qualche maniera ci rende partecipi in tutta la giornata. Vi chiedono se si può illuminare Piazza Dante, la Piazza delle Corriere. Beh, adesso c'è un'illuminazione, probabilmente il signore si riferisce o il telespettatore, si riferisce a un'illuminazione più presente, ma questo fa parte sempre di quello che le dicevo prima, che in qualche maniera va rivisto un po' tutto il piano di illuminazione in generale. Abbiamo, Sindaco, ancora tantissimi messaggi, però siamo quasi arrivati al termine di questa diretta. Vorrei parlare con lei delle iniziative del Natale. Appunto alle 18 c'è stata una conferenza stampa, Magico Natale Fossombrone, dall'8 dicembre al 6 gennaio. Quali iniziative sono previste per le festività? Ma sono iniziative che francamente ci saranno durante il fine settimana, ma non possiamo dire a che ora ci sono nel programma, ce ne sono tante, quindi non posso elencarle tutte, basta semplicemente... Poi anche sui social, sul sito... Sui social vederle, ma ecco, a chiunque dica perché non è previsto l'orario è semplicemente non un caso così eccezionale, ma è perché, proprio per non creare ammassamenti, aspettando in quel momento, ovviamente sarebbe una cosa che non possiamo dire e quindi saranno in maniera casuale durante la serata. Come è successo in altri comuni, ad esempio Pesaro, anche lei prevede di firmare qualche ordinanza per mascherine obbligatorie anche all'aperto, oppure no? Avete preso questa decisione con l'assenza dell'orario? Conteremo con la prefettura, prossimi giorni, prossimi due o tre giorni per riuscire a capire qual è l'avanzamento di questa epidemia, per capire se sarà necessario di firmare un provvedimento che obbligherà le mascherine anche all'aperto. Purtroppo è una cosa che non avremmo voluto prendere in considerazione, ma d'altra parte i numeri sono quelli che ci portano nel pensare che questa sarà una decisione che dovremmo prendere. Potranno essere ammirate ancora le magiche lanterne, i piccoli boschetti, un po' le attrazioni che anche negli scorsi anni hanno caratterizzato il centro storico, oppure ce ne sono delle nuove? Sì, quest'anno la Proloco ha voluto cambiare su qualcosa, abbellire ancora di più, pur restando le lanterne, come vedete, pur restando un'impostazione anche degli anni scorsi, ma sarà ancora arricchita con altri... Altre luminari o... Ci saranno degli alberi di Natale, ci saranno... Poi non posso dire tutto, l'importante è venire. Certo, non svegliamo, lasciamo la curiosità. Credo che sarà implementata la bellezza che era già a buon livello l'anno scorso, credo, sarà ancora più bello quest'anno, quindi invito tutti a venire, senza cercare di venire tutti alla stessa ora, quindi dovremo capire anche come, però sicuramente vale la pena passare qualche ora a Fossombrone, su questo non ho alcun dubbio. Sindaco, grazie veramente per essere stato ospite a Primo Cittadino e speriamo che possa ritornare ormai il prossimo anno a questo programma. Bene, grazie a tutti. Grazie di nuovo al Sindaco di Fossombrone, grazie anche a voi per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti.